Ehi, vedete che sta venendo mia cugina da Milano, eh? Non mi fate fare brutte figure! Cugina da Milano? E da dove sta uscendo voi? Si, è nata qua però da venti giorni e vive a Milano per lavoro! Uiii, Lucrezia e me! Amo! Ehi qua, dammi un bacio! No, no, niente bacio! A Milano facciamo così! Ha salutato i gatti! Inizio di tutto ti presento mio marito! Lietissima, come l'acqua! Quella è levissima, ignorante di in berda! Invece lui è mio figlio! Beh, Lucrezia e me che ne pensi di casa mia? Ti devo dire la verità che è un po' cringe! Grazie! Che ha detto? Ha detto che è grigia! Come è grigia? Che c'erano tutte le paredi bianche? Però, tutto sommato, devo dire la verità che è veramente top! O che sta? Vai a prendere la scopa! Vai a prendere la scopa! Dove l'hai visto signora? Che sta successe? Che sta succedendo? Ha detto che sta il tuo potere! Dove sta signora? Ho detto top, aggettivo qualificativo! Senti Lucrezia, mi ho preparato un po' di dolcetti per cena! Beh, a 32 minuti alle 20, più che cena la chiamerei a pericena! A Milano la chiamiamo! Come sono dolcetti? Come Chiara Ferragni, un pezzettino! Starrà buoni, anzi starà mega buoni, anzi starà male morta! Prego! Se non ti piace il biscotto sei neanche la donna! Senti, di che cosa ti occupi a Milano? Guarda, ultimamente sto facendo un corso di cripto! Ah, bravo, bravo! Lei crede in cripto? Io credo ancora in Cristo, signor, non in cripto! Quindi stai lavorando? Che ha detto? Niente, sarebbe il nostro benchia! E comunque sto anche facendo un'attività di self-serve consultant! Anche se sono deciso, fra il machine learning, il project manager o il cyber security Brava, brava, non è male, brava! A voglia! Lei che mi consiglia? La verità, signora mia, non ci ho capito tanto, eh! Peccato, un po' ignorantello mio marito! Ma no, poverino! Questo si chiama lavoro 2.0! Stay angry, stay foolish! Brava! Hai capito? Stendi i panni e pulisci! Posso dire una cosa? Visto che per me questo è cinese, andate a fare in culo tu, mia moglie e il finto milanese!